Io penso che il lungomare Barcarello sia qualcosa, è la riserva, sono le cose che colpiscono di più. Sia la parte terrestre della riserva sia la parte marina, sono entrambe belle, perché la parte terrestre è praticamente via un sentiero che permette di passare proprio sotto la montagna, che poi è particolarissimo, perché si protende in avanti, sembra quasi che tende a cadere. E quindi è bello, e poi ti affacci da là e vedi... Beh, il delirio è quello che mi ha fatto, magari mi viene la pelle d'oca, perché è quello che mi ha fatto scegliere poi la facoltà, ha dettato diverse scelte per la vita.